Minaccia di buttare giù il proprio figlio di 7 anni dal balcone dello stabile in cui vive assieme al marito, in via Artigiani, nel popoloso quartiere del Bani Roccella, Gela. Lei è Arion Maricica, una 34enne rumena sposata con un gelese di 35 anni, Alessandro Biundo. La famiglia deve abbandonare l'abitazione con effetto immediato a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Gela. I conici Biundo infatti avevano occupato illegitamente la casa di proprietà dello IACP di Calzanissetta che anni addietro l'aveva assegnata ad un altro nucleo familiare che però non l'ha mai occupata per trasferirsi nell'abitazione di un parente che aveva bisogno della loro continua presenza per motivi di salute. Ora però c'è una sentenza di sgombero ma c'è anche parallelamente un ricorso pendente in Tribunale e da questa mattina la donna si è barricata tra le quattro mura. E dove vado? Mezzo alla strada? Con un bambino di 7 anni? Sono arrivati i pompieri, i carabinieri, l'autombulanza per buttarci fuori? Dove andiamo? Però perché bisogna arrivare all'estrema conseguenza? Perché non abbiamo dove andare? Ancora c'è la legge di mezzo, la legge che tutela. Se poi sarà che il giudice decide di andare ci andremo ben volentieri ma se ancora c'è la legge di mezzo come fanno a buttarci fuori? Ma da quanto tempo è che abita qui? Di un anno e mezzo, da gennaio e l'anno scorso. Ma lei non si può invece tranquillizzare con la speranza che tutto si sistemi? No, se si sistemi ma se ci lasciano e quando la legge, che è la legge che mi dice che devo andare o devo stare? Ma se la legge di mezzo come fanno a buttarci fuori? Lo faccio anche per suo figlio però? Certo, dove vado con mio figlio? Neanche mi fa piacere che passano tutte queste cose. Sul posto ci sono i carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco. La situazione è abbastanza seria. L'avvocato che difende i coniugi biundo, Lucio Greco. La prossima settimana verrà discusso il reclamo e abbiamo chiesto, anche per motivi di buonsenso, un semplice rinvio, senza nulla pregiudicare alla parte stante che ha tutto il diritto, ripeto, di mettere in esecuzione il provvedimento, semplicemente di rinviarlo. Tenuto conto che parliamo di una famiglia con un bambino piccolo che non ha possibilità di poter affittare un'altra casa e che quindi sarebbe messa nella strada e non avrebbe possibilità di poter andare ad abitare una casa. Ci sono assegnatari che gli immobili popolari non li abitano e anche da questo punto di vista sarebbe opportuno che i controlli, le verifiche dovrebbero essere intensificate e fatte seriamente, in maniera tale che gli alloggi popolari vengano abitati dalle famiglie bisognose, dalle famiglie che questi alloggi li abitano.